bella gentaglia di sparta io sono ercole e oggi insieme a zu di pura fibra italiana dato che faccio i video sempre con octi di pura fibra italiana farò uno scontro all'ultimo sangue nella nuovissima modalità parco giochi vi ricordo come al solito di lasciare almeno 2000 mi piace per supportare il canale ed iscrivermi nei commenti chi volete che io sfidi nel prossimo video sei pronto zu sono prontissimo 3 2 1 guarda come guardalo come devo anche parlare certo dove ti trovi guardalo come launch dove sei oh no 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 mi spacchi tutto dove sei prendo questo lama e sono stupido da temer non pensavo che stessi mirando con un cane dai vita no 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 merda dove sei ti vengo a cercare io non ho pompa merda ma sono un chinocchio se devo giocare senza pompa non ci credo merda come ho fatto che navbone oh dietro merda ma perché cado sempre che cazzo no dai vieni qua ma sai che non so dove sei potresti prendermi alle spalle in un momento sono dove tu non puoi che vabbè non so parlare sono dove tu non puoi che guarda ok sono fottuto stando qua oh mio dio ah ma tu puoi dittare le mie si merda porca troia no ok mi hai scordato di prendermi un pompa round 2 dimmi quando sei pronto prontissimo 3 2 1 ready fight cazzo no 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 No, aiuto, mi sei! No, mi stai buildando Nascosto Mi hai fatto cagare addosso Ti vince questa Ora ti chiedo io se sei pronto Io sono nato pronto Va bene, ma vuoi lo scuro vecchio? Mmm, se ne è uno Ok Ok, si ritornano i nemici 3, 2, 1 Fai No cazzo la testa fuori porco Non neanche accordo Urca! Guardalo! Sei pronta la buildata? Merda Mamma mia Ah, con le tappole eh? Vai a 2 Non ti ho neanche visto Sei pronto? Vai 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 Ready Fight Non ci credo No, è già finita Dai, ti lascio tutto tutto Cacchio Sei pronto? 3 2 Vai 1 1 Via E là Bess Bessie qui si aveva una trappola Mi Guarda Mi sono incastato 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 Non ci credo Non ci credo Bella questa Ok, siamo tra due ma adesso si recupera eh Si recupera Pronto? Ok Yes Ready Fight Ah, non ho niente dalla distanza Peccato Peccato Eh, devo speccare una roba per niente Guarda Questa è per te Oh Cazzo Grande Dove sei? Merda Mi ha anche preso Facciamo così, dato che da adesso, cioè fino ad ora, sapevamo sempre dove si trovava l'uno con l'altro, vediamo partendo nascosti come ci comportiamo Ok Vai Ready, fight E poi mi hai detto, mi hai già visto che sono in lì Sì Dove cazzo sei? Troia Vabbè, facciamo che la sfida, allora dai, io devo trovare dai Ma che sei? Mamma mia No, no, no No, no Aiuto Guarda 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 Questa con stile Dovevo starne dentro, Dio Bellissima questa Questa è la bella, eh Io ho quattro, me ne manca una, se vinco questa Ready, fight Ho visto coglionazzo Ah Guarda Guarda Sto 我 Va Guarda 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 Roy Cu Dove ti trovi? Mi hai fatto spaventare tantissimo S blijegghe No let me E' che io gioco Io gioco da spirito Ma sicuramente si sarà sentito Bene dai ora direi per concludere in bellezza Facciamo una rampa gigantesca per i carrelli Andiamo a pinnacoli No merda Bene sali su questo Via Ma Oh mio dio che figata Ma che schifo Che figata ma che schifo Dai non ha fatto neanche un salto E niente ragazzi abbiamo fatto una cosa super fighissima Abbiamo fatto degli scontri Abbiamo fatto una pista per i carrelli che non è servita a niente Quindi Io farò ora non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi per i 99.000 iscritti Ne mancano solo 1000 Giù digli di iscriversi che ne mancano solo 1000 Dai ragazzi 1000 iscritti e arrivano a 100 E niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Bella Guarda dopo questa Ciao Addio Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti